La polisportiva Stella Azzurra festeggia il Natale con la scena degli auguri al ristorante La Torretta di San Zeno. Siamo con il presidente Otello Acquisti, con cui commentiamo un prestigioso riconoscimento perché mercoledì alla giornata olimpica del CONI siete stati premiati come la miglior società della provincia di Arezzo. È stato un riconoscimento importante, ci ha emozionato, ci ha inorgoglito e stasera qui festeggiamo le nostre ragazze con gli auguri. Comunque è stata una bella iniziativa, una bella manifestazione del CONI in un bell'ambiente. Bene, tutto bene. La polisportiva Stella Azzurra disputa il campionato nazionale di Serie B. Cosa si prova a calcare i palcoscenici di tutta Italia? Cosa che noi non ci saremmo neanche mai immaginato qualche anno fa quando abbiamo iniziato così per scherzo a fare questo settore femminile. non avremmo mai pensato di arrivare a giocare con squadre di alto livello, però è successo e ci stiamo bene però, ci stiamo comportando abbastanza bene. Mister Massimiliano Pedalino, è arrivato quest'anno la Stella Azzurra raccogliendo una squadra al suo primo anno in Serie B e raggiungendo subito grandi risultati? Sì, diciamo che i risultati stanno venendo. La squadra è al primo anno, sta acquisendo adesso un po' di esperienza nella categoria. Comunque è un gruppo bello compatto. Iniziamo adesso ad esprimere un po' il nostro gioco e questo ci sta portando, oltre ai risultati, anche la felicità di esprimere le proprie qualità che abbiamo. Unica imbattuta in Serie B, seconda miglior difesa dell'intero campionato nazionale? Sì, diciamo la seconda in tutti i gironi di Serie B, l'unica imbattuta del nostro girone. La difesa è un reparto molto forte, ma dobbiamo ringraziare sin dal primo attaccante che ci permette comunque di difendere bene e ordinato in campo.